Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Qui è Mission Code Allora, questo è un gameplay fatto su Lega Un 51.5 mi sembra Allora, volevo parlarvi un po' di cose Allora, innanzitutto sono ritornato E dopo parecchi, c'è tanto tempo che non faccio il video E ho deciso di riaprire il canale Cioè, veramente continuare questo canale Però con un altro amico E abbiamo deciso di fare un canale completamente su GoLock2D E in questo video infatti vi parlerò, diciamo, dei video che ci saranno I video che vedrete in seguito Allora, innanzitutto E questo è il mio primo account E mi chiamo RoddenRxDNY E però I video che vedrete in seguito saranno registrati E su un profilo fatto apposta Perché faremo video Tipo di imprese Diciamo, tipo di sciame Con un po' peloncino al culo Non lo so Vedremo, cioè nel senso Video di questo tipo Che ne so Sciame in modi difficili Oppure partite su Lega Oppure i GB Partite GB O Scream Insomma, questo tipo di video E... E faremo anche Su Lega Eroad to Master Division E appunto Facciamo con Un profilo apposta Perché Come sto già sono Master Quindi Mi ci metto subito Allora, parliamo un po' di questa partita In questa partita ho usato Inizialmente un M8 Poi, vabbè Non finito l'emozione Per sollegarmi la terra E... In questa partita Ho fatto Vabbè C415 Ho chiamato E... E... Uno sciame E due troni di scorta E... E due pulmini E... Avevo fatto un team Con... Con... I miei amici Che saluto E ringrazio E... Poi, vabbè Metto i nomi in descrizione E... Poi volevo dirvi un'altra cosa E... Metto il... In descrizione Il nome del... Dei nostri secondi account Fatti proprio per... Per video Cioè, per fare video E... Ci potrete aggiungere E... Aggiungiamo fino a... Tipo 50 persone E... 50 di voi Perché voi dobbiamo ovviamente Anche aggiungere I nostri amici E... Quindi aggiungiamo Fino a 50 persone Quindi... Mandate la richiesta amicizia Vi lascio il nome in descrizione E... Su questo non lo aggiungo Perché ho Angela Leis amici piena Conosco tutti Quindi non posso eliminare Ehm... Ehm... E niente Ehm... Niente Sembra che ho detto tutto Ehm... E niente Quindi Niente Iscrivetevi al canale Perché Ci saranno bei video Allora I video usciranno Ehm... Verso le 3 Ehm... E penso il lunedì Ehm... Poi vabbè Ehm... Cioè ve lo dirò Più avanti Però penso il lunedì Ehm... Ehm... Il mercoledì E il venerdì Usciranno verso le 3 Ehm... Poi vabbè Se non usciranno Per... Cioè Per qualche intervista Oppure perché dobbiamo Ancora Ehm... Continuare Cioè dobbiamo Il gameplay non è venuto Dobbiamo continuarlo E niente E qui ho anche un nuclear fail Perché ero arrivato di Bob A 22 Mi sembra Sì vabbè Tipo a instancabile Qualcosa del genere Ehm... Poi ragazzi Vedremo video anche su Ehm... Ci saranno anche video Su Ghost Ovviamente anche su Advanced Warfare Appena Lo prendo perché Ehm... In questo periodo Sono impegnato Diciamo Poi anche Ehm... Diciamo Con il pvr Ho dovuto prendere Di cap component Un sacco di cosini Poi Devo prendere anche Il barn Che Per chi non conosce Un controller Fatto Ecco Quello sciame Un controller Fatto proprio per Ehm... Ehm... Diciamo Per il game Lo metterò Quindi Ehm... Quindi appena Vi prendo La Tonser Warfare Faremo video anche lì Faremo video su Lego Ovviamente Anche su Imprese La DNA bomba Che Non sembra tanto facile Prenderla Ma Vabbè Faremo Vedremo Quello che Possiamo fare Ehm... Vediamo un po' Qui il gameplay Quasi finito 28-0 Appunto Ah no Ancora C'è un po' 28-0 Ah beh Nuclear fail Sono morto Perché tipo Ehm... Mi si era messo Un nemico davanti Non avevo visto Quello dietro di lui Che mi ha ucciso Qui stavo rischiando Ecco qui Instaccabile Ehm... Niente Ehm... Questo è il mio video Diciamo presentazione Che poi non mi sono presentato io Però ho detto Ehm... Quello che faremo nel canale Ehm... Diciamo poi ci sarà anche Ehm... Un altro video Del mio amico Ehm... Dove si presenterà lui Dunque Appunto Presentiamoci Perché fino ad adesso Non mi sono presentato Vabbè Per chi mi conosce Da tempo Ehm... Mi chiamo Marizio Abito a Roma Ho 18 anni Ehm... 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 Sono su Xbox Xbox 360 Per adesso Poi vi faccio anche la One Ehm... 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 Niente Gioco... Gioco praticamente Soltanto su Block Duty Ehm... Quindi Boh Se volete Giocare con me Su Leo Per cose Nose robe simili Che ne so Ehm... Ma dati un messaggio O sul primo Account Che è questo O sul secondo Che vi accetterò Ehm... Poi vi lascio anche C'è il nome Skype In descrizione Se... Se volete aggiungermi Ehm... Vi aggiungerò Appunto Ehm... 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 Niente Non... Non ho più niente da dirvi Quindi Vi lascio il gameplay Ehm... Ehm... 34.1 Pitano morto Ehm... Ehm... Niente Vabbè Vi lascio il gameplay Ehm... Ci vediamo Alla prossima Piena di via al canale Ehm... Postazione contesa I nemici hanno la postazione Ehm... 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 Postazione contesa La postazione è nostra Siamo soffermati Postazione contesa Ricarico l'arma Missile Hellstorm alleato in arrivo Due volte raggiunto Tenete duro I nemici hanno conquistato la postazione Andiamo La postazione è nostra Colpo fulminante in attesa Di coordinare Postazione contesa Carica Coordinate colpo fulminante ricevute Droni di scorta Sì Droni di scorta Alleato in arrivo Postazione localizzata Centro Attende le analisi danni Confermo Un nemico eliminato Cari Il tempo della missione è quasi più Taglio centrato Seguirà analisi dei danni Due nemici uccidi Missione completata Ottimo lavoro Grazie a tutti Grazie a tutti